Allora, questo è praticamente un paper che è stato pubblicato nel 2016 e diciamo più o meno la mia pubblicazione preferita del decennio, è un immenso studio di sequenziamento genomico sulla biodiversità microbica. Tutto questo enorme ventaglio sarebbe praticamente l'insieme della comunità dei batteri in generale. Poi c'è questo rametto, si dipanano qua gli archei e poi solo questo ramettino piccolo piccolo sono tutti gli eucarioti. Quindi voi immaginatevi tutto l'insieme di piante, animali e funghi è racchiuso in questo solo rametto, paragonatelo a tutta la vastità immensa del mondo dei microorganismi e diciamo praticamente un universo inesplorato di geni, di molecole, di adattamenti che ancora non conosciamo. Quindi una vastità infinita di biodiversità che è tutta ad esplorare, che può anche tornarci utile, ma che non conosciamo. In particolare qua è molto interessante l'ara a destra, questo ventaglio qui a destra, chiamata Candidate Filer Radiation. Questi sono praticamente dei gruppi di batteri che fino a qualche anno fa non si riusciva nemmeno a isolare perché vivono in simbiosi fra di loro. Per esempio un batterio produce una sostanza che serve un secondo batterio che non è in grado di produrre e quello viceversa ne produce un'altra che serve al primo. Detto molto banalmente, semplificando al massimo. Questi batteri non si riusciva a mettere su coltura, non si riusciva a coltivare in laboratorio, quindi proprio si brancolava nel buio. Quindi immaginatevi voi quanto poco sappiamo di quello che c'è là fuori. Il lavoro che fa l'area è anche un po' questo, andare a indagare, a scoprire cosa c'è là fuori. No, concordo. Soprattutto per la grande quantità di VBNC, viable but not curturable, che sono veramente un'infinità e speriamo che appunto io metto grande speranza nella single cell sequencing che appunto permetterà di avere un sequenziamento da una cellula sola. Non devi più fare una coltura con 8 milioni di batteri per avere il tuo genoma, puoi semplicemente avere quella che ha trovato Ilaria sul pezzo di roccia che produce manganese, la puoi prendere, la puoi sequenziare e sapere quali geni sono coinvolti. E' quello che... Che poi questa immagine... Una domanda sull'albero qua. Dove sono i protisti? I protisti... Allora... Sai che è una cosa che... ci sono i cinque... Allora, scusa un attimo... Però i protisti non esistono. Diciamo che il termine protisti indica un raggruppamento generico di microorganismi eucarioti anche scorrelati fra di loro. Diciamo un termine umbrello, un contenitore dove ci si butta tutto quello che non rientra fra i funghi, gli animali e le piante. Non è filogenesico. Sì, se andiamo a vedere la genealogia, vediamo che praticamente ci sono alcuni protisti che hanno un antenato in comune, per esempio, che è più vicino agli animali rispetto ad altri protisti. Diciamo, in biologia si dice che quindi è un gruppo... ci sono diciamo tre termini fondamentali adesso in evoluzione. Uno è monofiletico, indica diciamo un raggruppamento di organismi in cui noi abbiamo una specie, un antenato e tutti i suoi discendenti. Poi abbiamo il termine parafiletico che abbiamo una specie antica, tutti i suoi discendenti tranne un ramo evolutivo. Per esempio i dinosauri, o meglio i rettili, diciamo, perché se volessimo essere proprio pignoli, gli uccelli, dato che si originano da un ramo evolutivo dei dinosauri, sarebbero da considerare, fra virgolette, dei rettili. Però nel linguaggio comune ci viene un po' strano da chiamare rettili gli uccelli, quindi dal punto di vista genealogico, sì, gli uccelli sono una delle tante discendenze del primo rettile ancestrale. Anzi, i coccodrilli sono parenti più vicini degli uccelli rispetto alle tartarughe. Però quando parliamo di rettili includiamo tartarughe, lucertole, serpenti, i coccodrilli, ma escludiamo gli uccelli. In questo caso si parla di gruppo parafiletico. E poi c'è invece il termine polifiletico, in cui si prendono più gruppi scorrelati fra di loro e li si mette assieme senza tener conto dell'antenato in comune. Grazie all'analisi genetica noi stiamo iniziando a capire che un sacco di raggruppamenti biologici descritti in passato sono in realtà o parafiletici o polifiletici. Adesso c'è la tendenza a organizzare la tassonomia di modo da far sì che il più possibile i gruppi biologici siano monofiletici. Solo che questo dà vita anche a molte situazioni che possono essere anche un po' non immediate da capire. Io potrei anche dire per esempio che noi siamo pesci dal punto di vista filogenetico, perché discendiamo dai pesci ancestrali, ma sarebbe una descrizione che non sarebbe granché compresa, accettata da tutti. Soprattutto fra i batteri poi questo discorso è molto complicato, i batteri condividono fra di loro frammenti di DNA, quindi è molto complesso stabilire le relazioni di parelentela evolutiva. Tu stavi dicendo i protisti, ora se andiamo a vedere in questo rametto qui verde, vediamo innanzitutto qua c'è la scritta opistoconta, opistoconta sarebbero praticamente animali, funghi e alcuni piccoli gruppi di protisti. Poi abbiamo amebozoi, crome alvolata, che sarebbero rinchiusi nei protisti, archeplastidia, che include piante, cromisti, misa anche qualche altro gruppo, e poi escavate, che sono anche questi in teoria da considerare protisti. Dal punto di vista genealogico sono un po' separati fra di loro, in disordine, quindi il termine protista è un termine che ci fa capire rapidamente che stiamo parlando di eucarioti unicellulari, quindi è una descrizione operativa, possiamo anche dire dal punto di vista morfologico, ma se andiamo a vedere le relazioni evolutive, genealogiche, la situazione è un po' più complessa. Scusa se mi sono dilungato. Alessandro Mattedi. Alessandro è un biologo, sta anche lui in tesi a Biologia, all'Aquila, e a lobby della divulgazione, lui lo definisce così, ma è uno degli admi di Italia Unita per la Scienza, che è una grande pagina che vi invito a seguire anche. Ed ha collaborato con tante iniziative di divulgazione, quindi adesso lo avremo qui a parlare di rizobatteri. Quando vuoi, quando vuoi, Alessandro puoi iniziare. Grazie Andrea. Per chi si fosse collegato sulla adesso, sono Alessandro, sono un biologo, mi sono laureato in Biologia della Salute e della Nutrizione, e poi, dato che sono un po', diciamo così, mi piace molto l'ambiente universitario, ho deciso di reiscrivermi a Biologia Ambientale, quindi prendermi la seconda magistrale. Mi occupo, diciamo che attualmente sono dislocato presso il Laboratorio di Microbiologia del Suolo dell'Università dell'Aquila, e diciamo che mi occupo soprattutto di argomenti legati all'agricoltura, come in particolare quelli che sono i rizobatteri, e che sono studiati per la loro capacità di promuovere la crescita delle piante di interesse agrario. In particolare, queste slide le ho un po' tagliate stasera perché, dato che c'è un pubblico un po' più generalista, ho cercato di semplificare un po'. Però vi farò vedere molti schemini e molte fotografie, molto belle, che cercano di far capire soprattutto quanto è importante, diciamo, il microbioma, la diversità microbica del nostro suolo, soprattutto quanto è importante in funzione della sua utilità, dei suoi servizi dal punto di vista ecosistemico, che noi esseri umani sfruttiamo spesso senza rendercene conto nella nostra agricoltura. I rizobatteri sono, diciamo, semplificando, dei batteri che crescono, proliferano nel suolo. Molti vivono, diciamo, da soli per i fatti loro, ma ce ne sono molti altri che vivono in associazione con le piante, diciamo quindi in una sorta di simbiosi mutualistiche, quindi questi batteri danno qualcosa alla pianta che a sua volta, in cambio, gli dà un ulteriore beneficio. Quindi, all'interno del suolo, noi possiamo vedere che questi batteri possono essere sia allo stato libero, che li possiamo anche trovare, diciamo, che crescono sulle radici stesse delle piante e si insinuano anche fra le cellule delle radici, fra le pareti cellulari delle cellule. I rizobatteri, diciamo, sono entrati soprattutto negli ultimi decenni sotto la lente di ingrandimento della ricerca microbiologica e agronomica per la loro capacità, quindi, di promuovere la crescita della pianta, se visto che non solo determinati rizobatteri che noi, diciamo, abbreviamo come PGPR, che sta per Plant Growth Promoting Rizobacteria, diciamo, possono non solo, diciamo, favorire direttamente la crescita della pianta, fornendo, per esempio, nutrienti o addirittura producendo dei fitormoni che stimolano la crescita della pianta, ma possono anche, diciamo, fungere un po' come una sorta, fra virgolette, di sistema immunitario subappaltato, perché svolgono un'azione che impedisce a numerose specie patogene, soprattutto funghi, e anche pseudofunghi, che sono molto simili ai funghi, che possono danneggiare la pianta. Qui, in questa immagine, vediamo, innanzitutto, diciamo, un esempio classico di batterio simbionte delle piante, che è un rizobio. I cosa sono i rizobio? Sono dei batteri che crescono all'interno di noduli, piccoli noduli, che crescono sulle radici della pianta, quindi come una sorta di piccola casetta, diciamo. Questi batteri fungono da piccoli inquilini. Cosa fanno? Fanno una cosa molto importante, sono capaci di catturare l'azoto presente nell'ambiente e trasformarlo in una forma che le piante sono in grado di sfruttare per produrre poi amminoacidi e proteine, perché normalmente la maggior parte dell'azoto che troviamo, per esempio, nell'atmosfera, non è direttamente sfruttabile dalle piante. L'azoto atmosferico, per esempio, è N2, ma questi batteri sono capaci di trasformare l'azoto atmosferico o anche disperso nel suolo in altre forme come nitrati o nitriti che le piante sono capaci di sfruttare per la loro crescita. Vediamo ora, più specifico, vari tipi di benefici. Vediamo a sinistra, fra le azioni dirette, quindi la fissazione dell'azoto, ma i pgpr possono anche solubilizzare i fosfati presenti nel suolo che altrimenti la pianta difficilmente riuscirebbe a sfruttare, fosfati che ritroviamo nel DNA, in numerosi enzimi, sono alcuni elementi essenziali per la vita. Lo stesso poi per altri elementi come il potassio, ce ne sono altri che l'immagine omette perché altrimenti diventerebbe lunghissima. Poi c'è la produzione di siderofori che sono delle molecole peculiari di cui vi parlerò più approfonditamente fra qualche slide. E poi c'è una funzione stimolante perché possono produrre degli ormoni che stimolano la crescita della pianta. I principali, più importanti, sono l'acido indolacetico e l'etilene, ma non ci sono solo quelli. Dopodiché ci sono anche, come dicevo prima, degli effetti indiretti che hanno una funzione di controllo, possono produrre per esempio antibiotici che tengono a bada altri batteri nocivi, oppure possono produrre enzimi vari che possono degradare la parete cellulare di batteri o la membrana di funghi, o addirittura stimolare la produzione di rivestimenti protettivi sui tessuti della pianta. Vediamo ora, diciamo, più nel dettaglio l'importanza dell'azoto. Non ci facciamo mai caso, noi, che quello che respiriamo, quando noi respiriamo pensiamo solamente solo all'ossigeno, l'ossigeno chiaramente funge da comburenta all'interno delle nostre cellule, ci permette di andare avanti. Ma nell'atmosfera, diciamo, il 78% dell'atmosfera, invece, è composta da azoto molecolare. È un gas inerte, in colore, in odore. Noi lo respiriamo, non ci fa niente, e poi come espiriamo lo cacciamo fuori, passa, transito, eccetera. Diciamo, può essere preoccupante magari per i sommozzatori, perché quando vanno sott'acqua, magari cambia la pressione, allora si rischiano di formare bolle di azoto, ma noi che stiamo sulla superficie, normalmente, inspiriamo una gran quantità di azoto, lo ignoriamo, e poi lo buttiamo fuori. Ma ci sono batteri che hanno scoperto, fra virgolette, diciamo, una reazione biochimica, con cui sono in grado di spezzare questa molecola, e trasformarla in ammonio, che poi altri batteri trasformano in nitriti, e poi in nitrati. Perché la molecola N2, diciamo, è molto robusta, è molto resistente, sono quindi due atomi di azoto legati fra di loro, e questi legami sono fortissimi, sono, immaginate due lottatori di sumo che si aggrappano, e voi dovete cercare di separarli, non ci riuscireste mai. I batteri però ci riescono, diciamo, una capacità sensazionale di questi batteri, che sono detti azotofissatori, oppure ancora di azotrofi, che vuol dire che si nutrono della molecola di azotomo N2. E' quindi, diciamo, una reazione che richiede a sua volta molta energia per essere, diciamo, compiuta. Per questo, non la ritroviamo nel mondo delle piante e degli animali, ma le hanno evolute solamente specifici batteri. In questo modo, questi batteri forniscono alla pianta, che normalmente non è in grado di spezzare l'N2, diciamo, forme assimilabili di azoto, che poi la pianta è in grado di convertire e trasformare, per esempio, negli amminoacidi, che contengono anche azoto, e sono i mattoni delle proteine. Quando noi quindi ci mangiamo, per esempio, la bistecchina, stiamo assimilando proteine, stiamo assimilando carbonio, ossigeno, idrogeno, ma anche azoto. Quindi è un elemento essenziale per la vita. Il fosforo, il fosforo normalmente, lo troviamo in forme, diciamo, minerali, che sono difficilmente attaccabili dalle piante. Possono essere, diciamo, mobilitate, diciamo, anche in questo caso, dei batteri, che, per fare un paragone, è come se stessero a, diciamo, a staccarlo con dei piccoli scalpellini, se mi passate la metafora, e quindi liberano il fosforo, rendendolo solubile nel terreno. Le piante possono, alla sua loro volta, assimilare il fosforo, il fosforo che lo impiegano, per esempio, nel formare i nucleotidi che compongono il DNA, oppure i numerosi enzimi. Quindi anche il fosforo è un elemento essenziale per la vita. Dobbiamo ringraziare, quindi, i batteri che lo rendono disponibile alle piante, e così si forma tutta la, diciamo, catena alimentare da cui dipendiamo anche noi. Un altro esempio di elemento essenziale, che è, diciamo, il terzo macroelemento per importanza nella crescita delle piante, è il podassio. Tanto che, diciamo, che la maggior parte dei fertilizzanti che si utilizzano in agricoltura vengono detti N-P-K, appunto, perché contengono soprattutto azoto, fosforo e potassio. N-P-K sono i simboli chimici di questi elementi, che sono essenziali per la crescita delle piante. Cosa fanno poi i rizobatteri? Diciamo che, aderendo sulla superficie delle radici di una pianta, stimolano la crescita di piccoli apici radicali, diciamo, delle mini radici lungo le radici principali, per semplificare ora, non voglio entrare troppo nel dettaglio. In questo modo cosa succede? Che aumenta la superficie di scambio della radice stessa, perché un conto è avere una singola radice, un altro conto è avere una radice a sua volta ramificata, scusate il gioco di parole. In questo modo è possibile per la pianta coprire una superficie più ampia da cui assimilare nutrienti, acqua e così via. E lo fanno sfruttando quindi gli ormoni vegetali. Noi quando parliamo di ormoni pensiamo a quegli animali o addirittura solo agli esseri umani, pensiamo all'adrenalina, al testosterone, agli estrogeni. In realtà si parla di ormoni anche in fisiologia vegetale, in botanica, sono quindi delle molecole che possono diciamo favorire la crescita delle cellule, il loro allungamento, la loro distensione, possono velocizzare la divisione cellulare. Ci sono molti diversi tipi di risobatteri che producono vari tipi diversi di ormoni che se visto possono facilitare l'allungamento della radice, possono favorire l'accrescimento del fusto, l'accrescimento della massa biologica totale della pianta, possono anche stimolare la germinazione del seme. Ci sono addirittura alcuni semi che diciamo nemmeno germinano, nemmeno crescono se non ci sono i batteri simbionti o addirittura ma questo è un altro discorso dei funghi simbionti di cui magari potrei parlarvi un'altra volta. Questa è la molecola diciamo uno dei principali fitormoni che sarebbe l'acido indolacetico chiamato anche IAA uno dei più diffusi e uno dei più importanti la maggior parte in letteratura la maggior parte degli studi sui fitormoni prodotti da i PGPR vi piazzeranno questa molecola a un certo punto che viene isolata facendo centrifughe poi isolamento del supernatante analisi spettroscopiche e così via addirittura l'80% dei batteri promotori della crescita vegetale sono in grado di sintetizzare questa molecola che è quindi diciamo molto ricorrente diciamo è diffusa è banale per chi si occupa di questi batteri parlare di questa molecola è un po' come l'ABC diciamo siderofri li ho accennati prima che cosa sono sono sempre delle molecole sono diciamo delle molecole che sono in grado di legarsi agli ioni di ferro che sono disponibili nel terreno normalmente il ferro come gli altri nutrienti che abbiamo visto non è immediatamente disponibile per le piante anzi è pure raro ma cosa sono capaci di fare quindi PGPR producendo siderofori sono in grado quindi di raccogliere questi atomi queste ioni di ferro che è come se praticamente mettessero a disposizione della pianta una serie di piccole fra virgolette non dico calamite perché non operano per via magnetica però avete capito sono delle molecole che catturano gli atomi gli ioni queste molecole sono facilmente assimilabili dalle piante quindi una via diretta di assorbimento del ferro da parte della pianta ferro che viene utilizzato sia direttamente per la propria crescita che indirettamente perché può anche inibire la proliferazione di altri batteri negativi quindi i siderofori hanno una doppia funzione sia biostimulante che bioprotettiva o di biocontrollo sono un'altra delle classi di molecole che sono più indagate nella letteratura scientifica quando andiamo a vedere come funzionano diciamo i PGPR se funzionano se si possono utilizzare in agricoltura ora brevemente vi illustro più o meno quali PGPR sono studiati nello specifico dal laboratorio in cui mi sono ritrovato il laboratorio è diciamo gestito dalla professoressa Maria Maddalena del Gallo che è una persona squisita la mia supervisor in particolare è diciamo una postdoc di nome Marika Pellegrini che ci sta seguendo e la saluto anche lei bravissima in particolare indaghiamo quattro specie Burcolderia ambifaria Erba spirillum seropodice gluconacetobacter diazorroficus e azuspirillum brasilense sono nomi che magari sono un po' impronunciabili per i più ma con un po' di pratica ci si fa l'abitudine di recente abbiamo anche iniziato a studiare altre specie di batteri che contiamo di approfondire ulteriormente negli scorsi anni noi abbiamo diciamo negli scorsi periodi abbiamo quindi studiato come questi batteri possono diciamo favorire la crescita di determinate specie agricole qui innanzitutto vediamo colture batteriche dalla calligrafia mi pare che queste piastre petri le ho fatte io notiamo soprattutto che ci sono sfumature di colore diverse in particolare questo rosa sarebbe il mitico azospirillum che ha una colorazione diciamo rosacea rossastra perché produce anche carotenoidi il colore poi varia a seconda del tipo di terreno di coltura utilizzato non visto a elencare i dettagli ma per chi volesse poi approfondire qua abbiamo utilizzato come terreno di coltura uno particolare chiamato T4 questa diciamo una fotografia diciamo al microscopio a scansione elettronica che ci mostra proprio per l'appunto l'azospirillum mentre sta colonizzando la punta di una radice diciamo quello che si viene chiamato in botanica l'apice radicale non so se riuscite a distinguere sono tutti questi sacchettini questi piccoli ovali non so se si vedono si vedono qui i batteri riuscite a vederli ok vedo Andrea che è in webcam facendo di sì quindi ritorniamo quindi all'inizio della presentazione in cui vi ho raccontato anche di come i PGPR possono diciamo crescere sulle radici e colonizzarle sono per appunto in simbiosi è una parola greca che vuol dire vivere assieme sim insieme bion vita quindi vita assieme un altro diciamo dettaglio in cui si vede bene come si vanno a formare altri diciamo ramificazioni laterali e qua invece vediamo in maniera più applicata alcuni effetti della diciamo della somministrazione di PGPR su in questo caso diciamo una cultivar di pomodoro questo è uno studio del 2013 è stato fatto nel mio laboratorio ma prima che io arrivassi in particolare sopra vediamo che ci sono le piante su cui è stato somministrato diciamo fra virgolette un cocktail dei quattro rizobatteri che ho menzionato prima sotto invece ci sono diciamo le piante di controllo che in cui non è stato somministrato niente già da questa foto si può vedere come le piante in alto sono diciamo più vispe più grosse più prospere quindi c'è una crescita diciamo rilevante a livello di biomassa qui ok questo invece diciamo la cannabis che non viene studiata per i motivi che potrebbero dire di invente ma la cannabis può avere applicazioni farmacologiche o anche dal punto di vista della produzione di materiali vari quindi si fa anche ricerca anche sulla cannabis sativa e anche qui a sinistra c'è la pianta con inoculo che è cresciuta molto di più rispetto alla pianta di controllo questo in particolare è uno studio che è stato condotto in collaborazione con l'università di Teramo qua invece vediamo il cecio anche qui vediamo chiaramente a sinistra c'è l'inoculo a destra c'è diciamo la pianta di controllo il sorgo qua invece non vediamo una differenza fra inoculo e controllo ma vediamo piuttosto diciamo a un ingrandimento microscopico quelli che sono diciamo degli spazi diciamo intercellulari fra virgolette in cui non so se si vede si vanno a infilare i batteri per colonizzarli questa è una foto che abbiamo fatto lo scorso autunno la cipolla è una cipolla sono due varietà di cipolla meranto e mundens a sinistra su entrambi i fogli c'è l'inoculo con il risobatterio a destra c'è invece il controllo in cui che non è stato inoculato vediamo che il risobatterio la presenza del nostro consorzio di risobatteri favorisce un aumento di resa che diciamo è sbalorditivo perché sono grandi sono visibilmente molto più grossi quindi una quantità molto più grande di materia prima agricola in più e quindi si può facilmente adesso capire qual è l'interesse dello studiare questi batteri perché dal punto di vista agricolo si può migliorare la resa per esempio qui invece vediamo patate le proporzioni sono diciamo in entrambi casi una a uno a sinistra sempre inoculo di pgpr a destra il controllo patate e cipolle sono state diciamo seminate la primavera scorsa dovremmo pubblicare fra un anno si spera anche se adesso a causa del coronavirus il lavoratore è chiuso anche qui vediamo che c'è un aumento sostanzioso di resa quindi abbiamo una bellissima patatona a sinistra quindi cibo in più che può fare la differenza fra uno stomaco pieno e uno stomaco vuoto in futuro questa slide in realtà sono di qualche mese fa quindi diciamo che alcune di queste cose sono già state iniziate ma comunque in futuro c'è comunque molto interesse per applicare diciamo lo studio di pgpr non solo dal punto di vista della crescita agronomica ma anche per diciamo favorire la conservazione di piante selvatiche non di interesse agronomico ma di interesse botanico qui per esempio ho inserito la riforestazione delle piante a Lampedusa perché diciamo che si sta cercando di far ricrescere molte specie vegetali che purtroppo sono state spianate via dall'intervento umano a gennaio la mia supervisor ha inoltre pubblicato un altro studio su diciamo l'uso di pgpr con alcune varietà di erbe selvatiche che crescono lungo il Gran Sasso se non sbaglio mi pare se non mi pare sbaglio dovrebbero fare iniziare in questi mesi anche altri studi solo che come ho già detto il laboratorio è chiuso quindi le tempistiche ormai si sono un po' dilatate tornando un attimo su diciamo la differenza di resa anzi tornando ancora un po' prima scusa Sandro siamo già un po' oltre per concludere volevo dire tornare qui sul ciclo dell'azoto un'altra cosa molto importante nello studio di rizzobatteri è dovuto al fatto che essendo l'azoto ma anche il fosforo e il potassio molto importanti per la crescita delle piante sono diciamo impiegati nei fertilizzanti convenzionali per accrescere la resa delle piante c'è però un problema che l'abuso di fertilizzanti può comportare un'eccessiva quantitativo di azoto nel terreno che può indurre inquinamento che può indurre acidificazione del suolo eutrofilizzazione delle acque sono tutti fenomeni dovuti dall'eccesso di azoto oltretutto per produrre questi fertilizzanti si utilizza un processo molto interessante molto importante che sarebbe il processo Haber-Bosch che sarebbe un metodo industriale di fissare l'azoto che però è molto costoso e ha un impatto rilevante dal punto di vista delle emissioni di gas serra quindi si stanno studiando i PGPR anche per far sì che si possa ridurre l'utilizzo eccessivo di fertilizzanti in modo da evitare che ci sia eccessivo inquinamento oltretutto diciamo che in molti paesi poveri molti fertilizzanti anche efficaci magari anche più sicuri di quelli utilizzati in passato sono però ancora troppo costosi quindi lo studio dei PGPR può rappresentare diciamo un'alternativa per quei paesi più poveri che quindi non possono permettersi mezzi agroindustriali più avanzati ci sono però diciamo alcune problematiche che sono ancora in fase di studio prima di tutto per diciamo produrre i PGPR non è una cosa immediata ci vogliono delle infrastrutture specifiche che non sono non sono costose ma diciamo richiedono una certa un certo know-how delle certe expertise soprattutto conservare questi PGPR nel tempo può diciamo essere laborioso oltretutto non sempre quando un PGPR funziona in uno studio in serra poi andando a studiare il suo effetto in vivo si vede che non sempre si vede che funziona altrettanto quindi c'è ancora diciamo molto ancora molti vetri rotti che bisogna ricomporre per capire meglio come sfruttarli soprattutto ci sono stati anche diciamo di recente alcune discussioni che sono diciamo anche un po' complottistiche perché sapete parlare alla gente comune di batteri può indurre reazioni diciamo negative tant'è che come dice Dario Bressanini si parla di fermenti lattici vivi negli yogurt e non di batteri perché la gente si spaventa quando pensa di bere batteri negli yogurt si spaventa allo stesso modo quando noi parliamo di batteri inoculati nei campi agricoli ci sono persone che si spaventano pensano oddio ma non saranno batteri pericolosi saranno batteri che possono causare malattie negli esseri umani non sono batteri che possono causare malattie almeno quelli che conosciamo e che utilizziamo sono invece batteri presenti spontaneamente nel suolo che fanno parte dell'ecosistema sono tasselli importanti di tutta la catena alimentare ecco qui l'immagine infatti di uno yogurt e quindi per concludere l'argomento dei PGPR quindi diciamo in continua espansione ha molto potenziale ci sono ancora alcuni diciamo punti oscuri che bisogna chiarire meglio quindi ci vuole più ricerche ci vogliono più fondi che purtroppo non bastano mai non bisogna pensare ai PGPR come dei sostituti totali dei fertilizzanti convenzionali e dell'agrochimica si tratta diciamo quindi di strategie complementari in agricoltura bisogna essere un po' strateghi anche un po' diciamo pianificatori i vari strumenti a disposizione degli scienziati che si occupano di agricoltura hanno ciascuno il proprio utilizzo il proprio ambito di applicazione quindi ci saranno momenti in cui funziona l'agrochimica e momenti in cui invece è meglio non utilizzare l'agrochimica ci sono momenti in cui è meglio andare più di microbiologia e di controllo biologico e altri in cui invece magari non è altrettanto efficace e ci saranno momenti in cui invece possiamo utilizzare le biotecnologie con anche grande efficacia per esempio l'ingegneria genetica e altri momenti in cui magari un'idea biotecnologica sulla carta vantaggiosa poi sul campo non funziona è come avere una cassetta degli attrezzi con i martelli cacciavite brugole ognuno al proprio utilizzo bisogna sapere quando utilizzarli e come utilizzarli per adoperare al meglio e questa è una diciamo una cosa molto importante che ci tengo che sia molto ben chiara a tutti perché siamo 8 miliardi di persone sul pianeta la popolazione mondiale sta crescendo anche se il tasso di crescita diminuisce quindi abbiamo bisogno di produrre cibo ma abbiamo bisogno di produrlo in quantità ingenti senza aumentare l'impatto umano sugli ecosistemi perché purtroppo ogni nostra attività ha poi delle contropartite delle repercussioni quindi dobbiamo cercare di essere diciamo più sostenibili dobbiamo cercare di migliorare la resa agricola inquinando di meno c'è molta scienza nell'agricoltura di oggi che non è quella di un tempo che ci immaginiamo col mulino bianco ma ci sono grandi studi nella genetica nella microbiologia nella chimica vi ringrazio quindi per avermi ascoltato